Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai Suoi discepoli, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? No. Risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma è il Padre Dio che è nei Cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa Pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze dei Tiferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei Cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei Cieli. Parola del Signore. Parola del Signore. Ecco, sarebbe bello che sentissimo rivolta a noi stessi la domanda che Gesù fa agli Apostoli. Voi chi dite che io sia? Gesù stamattina dice, Tu, chi dici che io sia? O meglio, chi sono io per te? Chi sono io per te? Questa è una domanda veramente profonda e importante per Gesù. Chi sono io per te? Sono qualcuno che tu cerchi, con cui parli, a cui ti affidi, che cerchi di ascoltare, o solo un nome così, vago, di cui ho sentito parlare quando l'ha in Chiesa? Chi sono io per te? E Gesù si aspetta non una risposta imparata, a memoria col Catechismo, si aspetta una risposta vera, tratta dal tuo cuore. Chi sono io per te? Ci sono io nella tua vita? Sono qualcuno? Ho solo un'idea religiosa, così, di cui sento parlare tante volte. Chi sono io per te? Ecco, poi il Vangelo c'è anche un'altra cosa bella, che rivela come questo rapporto con Gesù può crescere, può maturare. Per questo il Signore ti dà tempo. Tu vivi sulla terra, non solo per la tua famiglia, i tuoi nipoti, eccetera, eccetera, ma per crescere nella relazione con Gesù. Questo è lo scopo alto della tua vita, ed è quello scopo capace di realizzarti pienamente. E ti puoi accorgere che quello che ti sto dicendo è una verità, dal fatto che man mano che vivi per Gesù vedrai nel tuo cuore una pace, una pienezza, un gusto della vita. Perché questi frutti? Perché Dio ti ha creato per questo e per questo ti dà il tempo, dà il tempo a te e anche a me, per crescere nella relazione con Gesù. Non solo per gli scopi così umani, anche buoni, che possiamo avere. Ecco. Allora la domanda, come faccio, secondo il Vangelo, a crescere in questa relazione con Gesù, che io penso un po' c'è, non sarà tanto chiara o consapevole, però c'è una certa relazione, se no non saresti qua. Come cresce questa relazione? Cresce, potremmo dire oggi con la grazia di Pietro e la grazia di Paolo, la grazia di San Pietro e di San Paolo. La grazia di San Pietro è la fede in Gesù, sapere chi è Gesù, secondo l'insegnamento della Chiesa, che è proclamato in modo solenne e certo da Pietro, dal Papa. Avete visto che quando Gesù fa la domanda ai dodici, tutti stanno zitti, si fa un grande silenzio. Solo Pietro, la voce di Pietro, rompe questo silenzio ed emerge su tutti e proclama con grande sicurezza tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Diciamo una volta, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù è contentissimo, è ammirato, forse non si aspettava che fosse Pietro a dirlo, e dice beato te, beato te, beato te Pietro, per questa conoscenza del mio mistero che viene dall'alto, viene dal Padre mio. Ecco, questo è il primo punto per crescere nella relazione con Gesù, sapere chi è. E dalla Chiesa tu vieni a conoscere Gesù e specialmente da Pietro, dal Papa, che ha questa grazia di proclamare con sicurezza il mistero di Gesù. Questo è il motivo per cui noi non dobbiamo mai staccarci dalla Chiesa e dal Papa. Mai. Quando succede qualcosa che ti mette in dubbio la tua adesione a Chiesa e te li respingela con una grande tentazione, perché una volta che il demonio ti stacca dalla Chiesa, ti distrugge. ti porta verso una visione illusoria della vita, della salvezza. Infatti, Gesù cosa dice? A dedo le chiavi del Regno dei Cieli, le porte degli inferi non preparranno contro di essa. La grande forza di salvezza Dio la mette nella Chiesa contro il male. Lo vediamo dalla storia con tante cose interne, esterne, negative. La Chiesa va sempre avanti da duemila anni e ci sarà sempre fino alla fine del mondo, perché c'è questa presenza forte di Gesù e noi godiamo della forza di salvezza in quanto siamo uniti alla Chiesa. Gesù non ha detto le porte degli inferi non preparranno contro di te, ha detto non preparranno contro di lei, contro la Chiesa. Se tu ti stacchi dalla Chiesa rimani con la tua grande debolezza. Ecco perché noi dobbiamo lottare contro le tentazioni e anche tanti difetti che nella Chiesa ci sono e ci sono anche cose brutte e poi dobbiamo essere unitissimi al Papa, unitissimi. Ecco, ovviamente senza idolatrarlo, senza cadere nell'esagerazione opposta. Cioè noi stiamo attaccati al Papa per essere uniti a Gesù e non per le sue qualità umane, per la sua cultura, se ci fa simpatia, non ci fa simpatia, ma perché attraverso di lui il Signore ci tiene nella fede in Gesù. Ecco, e poi oltre questa fede forte il rapporto con Gesù crescerà con la grazia di San Paolo che è la grazia di una straordinaria carità. San Paolo si è fatto tutto a tutti, ma io vorrei riassumere un po' la sua grazia in quelle parole che sono un testamento che mi piacciono tanto e spero che piacciono anche a voi. Quando lui riassume la sua vita dice così ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, ora non mi resta che ricevere la corona della giustizia che Dio giudice giusto darà a me e a tutti quelli che attendono con amore la sua manifestazione. Ecco, che bello se al termine della vita noi potessimo con verità dire questo. Ecco, io ogni tanto la ripeto questa e dico al Signore fa che la possa dire anche alla fine con verità. Ho combattuto la buona battaglia, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede, ho conservato la fede, notate San Paolo che dice ho conservato la fede come per far capire che questa fede si può pure perdere e che la vita è riuscita alla fine non se c'hai un guai o due o tre ma se conservi la fede e poi guarda al futuro non mi resta che ricevere la corona di giustizia che Dio giudice giusto darà a me e a tutti quelli che aspettano con amore la sua manifestazione io ho meditato spesso su questa corona di giustizia tu commette le immagini questa corona questo è un linguaggio preso dal mondo sportivo perché quando facevano le gare noi diamo le coppe loro davano proprio una corona dall'oro che mettevano sulla testa di chi vinceva e da questa immagine San Paolo fa una profezia sul paradiso come che Dio ci corona come vincitori nella lotta della salvezza ma questo non è un simbolo così è Dio stesso la corona di giustizia è Dio stesso che si comunica a noi e ci fa risplendere nella vita eterna insieme a Lui e a tutti i Santi è una cosa magnifica magnifica è una cosa veramente più grande più bella che ci può capitare allora adesso concludo vi chiedo scusa che sono stato un po' lungo e concludiamo con questa bella preghiera Signore Gesù grazie 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 grazie